Al di là delle generazioni come la mia o addirittura persone più anziane che l'autonomia l'hanno vissuta, l'hanno vista crescere, ovviamente le generazioni attuali l'autonomia se la sono ritrovata e neanche sanno probabilmente che ce l'hanno. Il problema è che l'autonomia bisogna coltivarla, bisogna motivarla, bisogna saperla rappresentare, bisogna dimostrare che essere autonomi significa riuscire a gestire meglio le risorse, essere più efficaci, essere più attenti e più responsabili soprattutto. Se non riusciamo a dimostrare questo allora tanto vale che ci omologhiamo è un rischio che comunque corriamo insomma. Anche perché l'autonomia non può essere l'autonomia del sindaco o del presidente o del consiglio provinciale, l'autonomia deve essere di tutti i cittadini, tutti hanno le loro responsabilità, i politici hanno responsabilità politiche ma i cittadini hanno le loro grosse responsabilità di cittadini e l'autonomia comporta anche per i cittadini maggiore responsabilità verso le istituzioni, verso i propri vicini, verso il proprio territorio.